Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite, oggi 5 gennaio 2021, terzo appuntamento con Creare il futuro a Frosinone al centro Prospettiva Amministrativa 2022 in compagnia di Pierpaolo Segneri e Vincenzo Iacovissi. Dobbiamo dire in premessa, adesso andrò a presentarvi gli ospiti, in premessa che questo appuntamento che è cominciato appunto qualche settimana fa si sta rivelando molto seguito, interessa molte persone, ci sono dei commenti, ci sono delle visualizzazioni, insomma speriamo che cresca anche appunto con il ricambio dei vari ospiti, ci ospichiamo che siano delle più disparate posizioni politiche, insomma cerchiamo di dare uno spazio a tutti. Pierpaolo Segneri lo conoscete, professore, regista, autore teatrale, presidente dell'associazione Frosinone al centro e Vincenzo Iacovissi, vice segretario del partito socialista, classe 1983 e autore del libro Un socialista a Palazzo Chigi. Oggi partiamo dal da una riflessione, io il mio ruolo è un po' quello là di dare un pochino il via al dibattito, abbiamo detto fin dall'inizio che siamo soprattutto attenti e interessati al metodo di selezione delle candidature, in cui si selezionano, si creano le candidature e in questo caso appunto parliamo delle amministrative duemilaventidue per Frosinone ed è il tema delle primarie. Questa cosa che Pierpaolo appunto chiede da tempo le primarie per Frosinone che pare che sia stata accettata anche dal partito democratico, ecco Vincenzo Iacovissi su questo vorrei dare il via, lo start, tra virgolette, con degli scambi più o meno di cinque minuti, qui poi spero io non dovrò fare il cerbero per interrompere. A te Vincenzo. Allora io ti ringrazio Gianni e sono lieto di tornare ospite nelle tue trasmissioni perché insomma ricordo con piacere interviste fatte qualche anno fa e quindi è stato un grande piacere subito ritrovarti e ti ringrazio per l'ospitalità così come ringrazio Pierpaolo a quale mi lega un rapporto che non è solo di diciamo comunanza nell'impegno politico ma è anche un rapporto personale anzi direi soprattutto un rapporto di carattere personale quindi mi fa molto piacere intervenire questa sera e fare un confronto con Pierpaolo che è una persona che stimo e quindi ragionare di Frosinone e di futuro insieme a Pierpaolo credo che sia comunque un privilegio. quindi sono io che ringrazio voi e faccio anche gli auguri di buon anno a voi due e a tutti i nostri ascoltatori. Vengo però al punto alla domanda che tu mi hai posto che è quella relativa ai metodi per la selezione delle candidature. È chiaro che noi sappiamo che lo strumento delle primarie è nato negli Stati Uniti nella notte dei tempi ormai è stato importato in Italia ormai da circa un quindicennio con alterne vicende e alterne fortune. Per quanto riguarda la nostra provincia sappiamo che le primarie sono state adottate in alcuni casi dal centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco in alcuni comuni altre volte invece si è preferito utilizzare metodi di tipo diverso e su Frosinone città alle ultime elezioni vennero scelte proprio le primarie come strumento per la selezione. Se non sbaglio se non ricordo male Pierpaolo doveva partecipare o ha partecipato? Questo mi correggerà. Lui erano le primarie in quel caso del centro-destra e furono primarie comunque utilizzate per scegliere il candidato sindaco. Adesso venendo all'attualità quello che io posso dire è che essendo diciamo un attento lettore della stampa locale ho appreso dalla stampa che il Partito Democratico intende celebrare e organizzare le elezioni primarie per la scelta del proprio candidato. Noi come socialisti ovviamente siamo già in campo, stiamo già organizzando non solo la proposta politica ma stiamo già scegliendo i candidati perché sapete meglio di me che in politica un anno e mezzo non è poi molto e nonostante la pandemia rallenti le operazioni posso dire e posso essere molto soddisfatto del lavoro che stiamo mettendo in campo sotto la regia del segretario cittadino che è Gerardina Morelli insieme al capogruppo Calicchia, tutto il gruppo dirigente di Frosinone e ovviamente assieme al segretario provinciale Francesca Ciotoli e a Gianfranco Schietro ma è inutile dire insomma che è il nostro leader e il nostro punto di riferimento. Stiamo facendo una bella operazione a mio parere e quindi sono certo che i socialisti saranno nuovamente protagonisti come in questa città ormai Pierpaolo lo sa è tradizione da almeno trent'anni quindi noi siamo pronti all'appuntamento sulla vicenda delle primarie e poi mi taccio ovviamente al momento noi siamo degli osservatori nel senso che da quello che ho capito debbano essere saranno delle primarie del Partito Democratico. Quindi noi rispettiamo quella che è la decisione del Partito Democratico e guardiamo con attenzione a tutte le evoluzioni che ci saranno di qui ai prossimi mesi. Grazie. Ovviamente ringrazio Vincenzo per le sue parole di amicizia dall'altro è anche difficile trovare argomenti in cui ci troviamo in disaccordo con Vincenzo sul piano politico però partirei proprio da questione del metodo. Da maggio sui social avevo iniziato a scrivere questa idea di elezioni primarie per il centro-sinistra Frosinone perché avevo letto comunque un'intervista rilasciata da Francesco De Angelis che diciamo è il leader del Partito Democratico in provincia di Frosinone anche se non ha l'incarico ufficiale però è il leader anche della componente più importante pensare democratico si chiama e della necessità di mettere insieme una coalizione alle prossime amministrative che fosse in grado di vincerle. Interveni immediatamente poi a giugno con degli articoli proprio per dire se si vuole realizzare questo tipo di discorso è necessario fare dei passaggi politici in grado di aggregare, di coinvolgere e un passaggio politico per me sono le primarie è vero io mi sono candidato alle primarie diciamo del centro-destra la volta precedente proprio per dare forza al dibattito. Per me è principale in questo momento come lo era prima dare spazio al dialogo discussione politica Frosinone perché la politica purtroppo secondo me da troppo tempo ha lasciato la città di Frosinone perché o c'è l'amministrazione l'amministrativismo oppure c'è il potere fino a se stesso il comando il fatto di accentrare tutto e non c'è più dibattito la discussione il dialogo allora queste delle primarie serviva anche per stimolare il centro-siste in particolar modo mi riferivo al partito democratico locale per iniziare un dibattito su questa questione delle primarie che è una proposta che ho avanzato nei mesi successivi finché poi a dicembre eh Francesco De Angelis appunto ho detto che PD è intenzionato a farlo però non c'è stata risposta non c'è stato interlocuzione non c'è stata la capacità politica di cogliere questo mio ehm tentativo di creare dibattito eh in modo da magari eh rispondere sui giornali riintervenire dialogare in maniera pubblica tutto questo non è accaduto quindi io inizialmente diciamo inizialmente avevo lanciato questa cosa proprio perché in virtù dell'esperienza avuta dei primari del centrodestra dove il dibattito morto sul piano politico a Frosinone potesse un po' riprendere e solo per quello l'ho fatto e l'ho sempre dichiarato riprendere un suo valore una sua qualità eh oltre che una propria esistenza di discussione eh politica eh ho provato a farlo con il PD ma questa risposta di silenzio pubblico di poi magari privatamente tanti esponenti del PD mi hanno anche detto delle cose incoraggiato eccetera però se non è pubblico non è politico allora a livello privato se tu mi fai delle confidenze per me va bene ma manca quello che è invece la visibilità di un'azione politica che serve ad aggregare quindi io rimprovero vabbè eh Vincenzo ovviamente non è del Partito Democratico però rimprovero al Partito Democratico che non ha capito che la mia intenzione magari di partecipare a quelle primarie era un modo per aggregare anche con idee con proposte eh senza altri fini se non quello di magari portare eh con una lista civica un valore aggiunto alla coalizione del resto è un'esperienza che ho fatto per esempio con la lista Marzi con eh quando ci fu eh l'elezione la seconda volta di Marzi al comune di nel 2002 io mi presentai quella lista raggiungiamo mi pare l'undici per cento che fu una lista che riuscì a prendere voti eh al di là della partenenza partitica ma andò a cogliere anche da un elettorato che magari non eh abitualmente votava per il centro-sinistra e che per quell'occasione in quella lista ha intercettato questo tipo di elettorato quindi io riprovo al Partito Democratico non essere in grado eh di aggregare e quindi quando addirittura è arrivata la risposta a dicembre il Partito Democratico se ne è guardato bene dal dire eh raccogliamo anche dico raccogliamo perché l'avevano fatta accadere l'idea di per Paolo Segneri di delle primarie e pensiamo di farle da quello che ho capito vorrebbero fare delle primarie del centro-sinistra non del Partito Democratico io comunque non parteciperò io ho deciso di fare una lista civica e di andare eventualmente a primo turno come candidato a sindaco non ho problemi a dirlo e del resto con l'associazione culturale Frosinone al centro stiamo avviando una abbiamo lanciato una proposta quella di una sfida culturale a Frosinone e quindi diciamo con un'idea che politica è cultura perché la cultura non è eh i libri il teatro e basta la cultura è tutto ciò che noi facciamo come lo facciamo la cultura è la consapevolezza il metodo eh la reciprocità il dialogo eh la conoscenza la circolazione delle idee come facciamo una cosa con quale forma mentis e Frosinone ha bisogno di riaccendere la propria anima ha bisogno i cittadini frosinati necessitano di un risveglio che possa pensare a un futuro finalmente da protagonisti e secondo me perché negli ultimi anni tutto questo si è spento io vedo una città spenta dico sul piano politico e quindi culturale e quindi dell'esistenza stessa dei cittadini quindi quel vuoto esistenziale di cui parlavo in altre occasioni e va riempito in politica il vuoto non esiste bisogna vedere se lo riempie il nulla eh siamo messi male se lo riempie la politica con questa visione questa capacità che sta dando l'associazione Frosinone al centro di una visione per il futuro non basta il punto di vista non basta più l'elemento e il Partito Democratico questa visione ha perso l'occasione il Partito Democratico di avere una lista civica per il centro-sinistra e di avere magari il sottoscritto eh alle elezioni primate non mi piace proprio per niente questo modo di fare io infatti magari sì pensavo Vincenzo è una cosa del Partito Democratico se invece diciamo tu personalmente o il Partito Socialista qualora fosse di coalizione pensate state pensando non si può dire perché ancora è presto perché ancora non si può dire di eventualmente presentare una candidatura eh socialista a queste primarie. Allora innanzitutto permettimi di farti complimenti per la tua iniziativa meritoria che io ho seguito con interesse fin dall'inizio e devo dire che nell'immobilismo politico dal punto di vista della visione che connota purtroppo la nostra città tu hai avuto il merito quantomeno di gettare un sasso nello stagno poi che lo stagno si muova o rimanga nella propria condizione questo ce lo direte il tempo però il tuo merito è stato quello comunque di aver promosso un dibattito. Io guarda ti dico molto eh chiaramente come la penso e credo come ed interpretare anche un po' qual è l'opinione del mio partito avendo anche seguito la politica forse da quindici anni a questa parte. diciamo che le primarie intese come strumento per la selezione eh dei candidati sono assolutamente un un mezzo positivo un mezzo che ha anche prodotto dei risultati positivi in diverse realtà del nostro paese e non solo del nostro paese e sicuramente hanno il pregio di allargare la base di partecipazione e di favorire il coinvolgimento dei cittadini a partire dalla fase iniziale che è quella della scelta delle candidature. Purtroppo quello che io registro in questa provincia è che laddove si sono celebrate le elezioni primarie salvo rarissime eccezioni questi non sono stati appuntamenti di mobilitazione di idee di proposte associate a delle figure che poi andavano a candidarsi ma sono state in alcuni casi delle rese dei conti in altri casi degli appuntamenti che non hanno selezionato nulla perché ci siamo ritrovati adesso non voglio scendere nel particolare per non annoiare nessuno però chi fa politica in questo territorio penso che abbia memoria di alcune primarie nelle quali si svolta la consultazione c'è stata una grande partecipazione c'è stato un impegno una lealtà da parte di tutti i candidati partecipanti alle primarie a legittimare e rispettare l'esito delle primarie stesse puntualmente il giorno dopo ad esito consumato e quindi a vincitore delle primarie annunciato coloro che avevano partecipato alle primarie o comunque coloro che in qualche modo erano nell'entourage di altri partecipanti alle primarie che poi non hanno vinto si sono comunque candidati a sindaco e quindi si è sostanzialmente svuotato di senso e di significato quello che invece è l'obiettivo in questo caso primario passatemi il gioco di parole delle elezioni primarie siccome io ritengo che le proposte politiche vadano costruite per tempo mancano 18 mesi quello che io noto in questo caso da osservatore è che ancora una volta si rischia di commettere l'errore che a Frosinone è stato commesso spesso cioè mettere un po' il caro davanti a voi cioè dire ok facciamo le primarie però senza definire il come il quando il perché chi sono i soggetti quali sono le regole e soprattutto lasciami dire qual è l'idea di fondo di città sulla quale ci vogliamo confrontare io ricordo e di questo ne faccio merito soprattutto al partito che in quel momento guidavo a Frosinone siamo stati gli unici credo insieme a te a lanciare le primarie delle idee era il 2012 prima delle elezioni comunali del 2012 prima ancora che si iniziasse la discussione sulle candidature a sindaco noi svolgemmo delle iniziative una in ogni circoscrizione all'epoca esistevano ancora questi organi di decentramento amministrativo erano delle vere e proprie primarie delle idee in cui sottoponemmo ai cittadini dei questionari rispetto alle problematiche che noi stessi individuavano come criticità e a seguito di quegli appuntamenti devo dire molto positivi dei quali io serbo un grande ricordo stilammo il nostro programma elettorale ecco io penso che prima di parlare di primarie fino a se stesse sarebbe preferibile parlare di primarie delle idee perché chiunque di noi può avere qualunque tipo di velleità di candidature ma se queste candidature non sono associate a una proposta a una visione di sviluppo della città credo che siano un po diventino quasi una sorta di misurazione dei rapporti di forza che poi in realtà ai cittadini interessa poco perché ricordiamoci che per far partecipare i cittadini alle primarie ci vuole un'idea un'idea a fondo che li muova perché gli elettori su una città come Frosinone se facciamo le primarie per dire chi è più simpatico tra Vincenzo Iacovisti per Paolo Segneri piuttosto che Tizio Caio e Sempronio magari vanno alle primarie i nostri amici i nostri conoscenti le persone che in qualche modo ci stimano che ci vogliono bene oppure le persone alle quali siamo antipatici per affondarci ma non riusciamo a sviluppare una grande mobilizzazione il discorso è diverso se si costruisce dapprima un perimetro una base programmatica di discussione allora lì si possono confrontare delle idee sulla città e ci si può mettere in discussione però allo Stato e su questo sottoscrivo quello che diceva Pierpaolo è chiaro che parlare io per come lo interpreto io avendo la presa dai giornali allo Stato sono primario del Partito Democratico partito nei confronti del quale noi non solo siamo leali siamo straleali perché ti parla uno che dopo sette mesi di campagna elettorale a due mesi dalle elezioni ritirò la propria candidatura sindaco eh nel duemiladiciassette proprio per favorire l'unità del centrosinistra in altri comuni facciamo la stessa cosa ci sono le elezioni adesso nei comuni importanti di questa provincia stiamo lavorando devo dire molto bene assieme al Partito Democratico per costruire delle coalizioni che siano competitive è chiaro che su Frosinone è ancora prematuro per parlare di questo genere eh di assetti io prendo atto che c'è da parte del Partito Democratico l'esigenza o la proposta di celebrare le elezioni primarie chiaramente noi come partito eh valuteremo insomma verificheremo nei prossimi mesi comunque resta il fatto che le primarie non devono e non possono diventare esclusivamente uno strumento per scaricare sui cittadini delle decisioni che magari debbono essere prese all'interno degli organi di partito perché ricordo che una delle funzioni principali che ha la politica e che hanno soprattutto i partiti politici tanto demonizzati quanto necessari è quella tra l'altro non solo di rappresentare una proposta politica ma di avere la capacità di selezionare la classe dirigente quindi primaria in senso generale va bene ma nel nello specifico per quanto riguarda Frosinone vediamoci chiaro perché ancora la situazione chiara non è no e prendo la parola Vincenzo perché ovviamente sono d'accordo con la tua analisi eh cerco di dire qualcosa per raggiungere e per non se non ho finito la discussione eh aggiungerei questa cosa aggiungerei questa cosa eh ovviamente quando ho proposto le primarie eh legato al mh all'urgenza legata alla necessità di fare questo tipo di discorso che stai facendo anche tu magari in dialogo in contraddittorio per cercare di fare in modo che ehm la visione che noi stiamo dando come l'associazione Frosinone al centro è quella ehm che parte dall'importanza delle persone cioè dei frusinati dei cittadini la persona eh l'essere umano di qualsiasi età che sia un bambino un ragazzo uno studente o un anziano che possa sentirsi partecipe ed essere eh insieme agli altri protagonista di un cambiamento di una svolta che Frosinone secondo me eh necessita dobbiamo dare una svolta rispetto a passato io su questo sono convinto non qualcosa di ma proprio una svolta che sia un cambiare pagina eh rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni direi degli ultimi vent'anni poi ci sono tante cose positive negative ogni ogni amministrazione ha fatto delle cose importanti possiamo dire quello che vogliamo anche di positivo e sono io il primo a riconoscerlo però non possiamo continuare in quel modo perché siamo arrivati a un punto che o riusciamo a svoltare o andiamo nel baratro e quindi devono ritornare al centro le persone io invece penso che eh sono le persone che portano con la loro esperienza la loro credibilità eh la loro autorevolezza eh la loro preparazione politica un progetto una proposta un'idea qualcosa come dici tu no che facemmo le le primarie delle idee e sono le persone magari le primarie aperte e libere dove possano partecipare tutti i cittadini non solo gli iscritti del PD se no è inutile fare le primarie con gli iscritti del PD tutti i cittadini come fece secondo me bene Nicolo Ottaviani l'ultima volta che non era necessario fare le primarie perché lui era il sindaco uscente quindi automaticamente era ricandidato no ha fatto queste primarie forse anche per ehm creare un precedente per la fine del secondo mandato per eh scegliere nel centrodestra un candidato ehm attraverso quel tipo di ehm idea di quel tipo di proposta e quindi ehm diciamo primare libere aperte della città dove tutti possono andare anche chi non è stato impegnato politicamente chi non è iscritto a un partito politico e fare in modo che ci sia una partecipazione data da che cosa dal dialogo da contraddittorio di persone che portano avanti un'idea perché quando poi ci sarà il sindaco il il programma è anzitutto il programma del sindaco perché Vincenzo lo sa che eh comunque alle alle comunali c'è l'elezione diretta del sindaco no quindi è vero che ci sono i partiti che lo sostengono e e quindi il programma è sostenuto dai partiti eccetera ma viene identificato con il candidato sindaco è la persona proprio perché c'è l'elezione diretta che mh si fa carico del programma di quella coalizione no il programma era il programma di Domenico Marzi che poi della coalizione centrosinistra ma lui eh lo rappresentava quindi eh le primare servono proprio per confrontarsi nelle idee e prima di arrivare a come dice giustamente Vincenzo a elaborare come farle dibattiamo no sulla stampa come le vogliamo fare tutto questo non è accaduto ma io me la diciamo dico vuol dire che ci sono delle situazioni politiche in particolare nel partito democratico a livello locale che mi lasciano sconcertato perché se tu togli quello che è il dibattito politico tu insegui i tuoi avversari su un terreno dove ti vinceranno sicuramente perché la povertà del dibattito politico in queste ultime due consigliature voi date da centrodestra dimostrano un livello eh quasi nullo di di dibattito discussione dialogo politico e non c'è visione infatti ho apprezzato molto quel tuo intervento sui giornali per esempio che mh hai fatto riferendoti alla città metropolitana all'area intercomunale che ho ripreso anch'io poi nelle altre puntate di questo ho visto e ti ho letto e quindi ehm eh quella quella tua proposta che eh hai rilanciato è caduta nel vuoto ma non è possibile ma poi io dico ma non c'è nessuno un dibattito su quella cosa così importante dell'area intercomunale che tu hai eh messo nero su bianco cercando di rilanciarla è stata assolutamente fatta cadere e questo vale per tante altre ho fatto quello come esempio senza una visione senza un un cuore di passione per gli ideali per le idee per l'amore per la città io so tu sai che io risiedo a Frosinone sono sempre rimasto a Frosinone ho sempre votato a Frosinone ho sempre riseduto a Frosinone anche se per motivi di lavoro di studio eh io ho dovuto spostare il mio domicilio a Roma ma io torno sempre a Frosinone e il commercialista Frosinone la bacca Frosinone e la famiglia tutto io sono di Frosinone e potrei anche diciamo dedicarmi più eh al mio percorso eh romano che a quello Frosinate lo faccio perché io mi sento chiamato in causa della mia coscienza si sente stimolata perché quando torno a Frosinone e vedo eh questo stato d'animo delle persone eh rancoroso arrabbiato oppure rassegnato oppure fatto di ansie di di timore sul futuro eh di situazioni che veramente creano angoscia solo a guardarle perché io dico che gli occhi a volte vanno ascoltati più delle parole gli occhi dei miei concittadini sono occhi che giornano solitudine forse sarà stato anche il covid ma io dico questa è una responsabilità politica e mi aspetto che il dibattito possa appassionare e che una questione come quella dell'area intercomunale torni al centro del dibattito io dico le primarie sono una scusa per rimettere la persona al centro e fare in modo che siano le persone a cambiare le cose perché tu puoi avere il programma più bello del mondo ma se metti le persone sbagliate a realizzarlo tu avrai un disastro quindi non è il programma che fa la differenza sono le persone. Sull'area intercomunale diciamo che questa è un'idea di vecchia data in qualche modo che dall'inizio del novecento in qualche modo era sintetizzata come la grande eh Frosinone già una iniziativa diciamo del governo fascista e che a quanto pare ha trovato le resistenze campanilistiche già allora. Vincenzo che ne pensi tu? Allora io eh prima di arrivare alla città intercomunale faccio solo un appendice eh su quello che diceva Pierpaolo nel senso che anche io reputo che la storia di Frosinone per come si svolgono gli eventi eh io la immagino come se fosse un video nel quale al momento è schiacciato il tasto pausa cioè è una città che è ferma che è non solo ferma da un punto di vista di sviluppo di carattere economico eh sociale infrastrutturale ma è ferma soprattutto da un punto di vista di mentalità e di cultura e quindi su questo credo che ci sia una totale consonanza con Pierpaolo e purtroppo devo registrare a malincuore che l'ultimo decennio diciamo eh trascorso con le i governi guidati attualmente dall'avvocato eh Ottaviani a prescindere dal eh i risultati di carattere amministrativo che possono essere più o meno discutibili e noi come socialisti abbiamo avuto anche diciamo la la serietà di riconoscere i meriti dell'attuale amministrazione su alcune cose come ad esempio l'acquisizione dell'edificio Banca d'Italia che è sempre stato un nostro cavallo di battaglia che quindi ha incontrato da parte nostra il applauso nel momento in cui si è concretizzato quello che però è mancato sta mancando e speriamo non manchi nel futuro è l'assenza proprio di una visione di sviluppo questa è una città che non pensa mai in grande e che soprattutto dimentica troppo spesso di essere capoluogo di provincia continuiamo a ragionare come se fossimo un paesone io spesso dico che noi sembriamo un po' una torta che è ricresciuta troppo rispetto alla forma cioè la forma è più stretta rispetto all'impasto e quindi siamo ricresciuti e siamo diventati eh un paesone invece dovremmo acquisire finalmente il profilo di capoluogo e porci alla guida di processi di sviluppo che partano soprattutto da quello che eh ci diceva Gianni poco fa cioè l'idea della città intercomunale che noi socialisti portiamo avanti ormai da più di un ventennio e che io personalmente ho sempre sposato come idea madre di qualunque proposta di rilancio del capoluogo tant'è che ne feci un motivo anche di eh propaganda elettorale alle ultime elezioni nel duemina diciassette era il punto numero uno e il punto assorbente del programma elettorale devo dire con questo con una punta d'orgoglio anche molto prima rispetto al meritorio eh ed anche esaustivo studio che un'industria ha compiuto eh qualche anno fa rispetto appunto al progetto della eh grande Frosinone che sicuramente avremmo letto tutti sicuramente eh Pierpaolo anche avrà avuto modo di approfondirlo quindi con una punta d'orgoglio dico che abbiamo anticipato eh un po' di tempi e che è essenzialmente l'idea di realizzare un'area di circa centocinquanta mila abitanti che comprende all'incirca eh dieci comuni della cintura eh intorno a Frosinone e che senza rinunciare alle specificità municipali nessuno vuole fondere comuni nessuno vuole chiudere comuni ognuno di noi è geloso custode della propria tradizione del proprio campanile noi in particolare io e per Paolo il nostro campanile ce lo teniamo stretto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista metaforico quello che intendiamo fare con l'idea della città intercomunale è quello di mettere insieme i servizi quei servizi ovviamente che possano avere una gestione aggregata innanzitutto realizzando dei risparmi di spesa e migliorando l'efficienza del servizio stesso ma soprattutto soprattutto dando un'idea all'esterno che Frosinone non ragiona più come singola municipalità ma Frosinone è l'area del Frosinate che da un punto di vista territoriale è omogenea è contigua è totalmente interdipendente può rappresentare un'area un polo di attrazione e questo lo dico soprattutto per quello che riguarda la posizione delle nostre municipalità municipalità nei tavoli istituzionali che contano lasciami fare una parentesi di trenta secondi su questo la nostra è una provincia che subisce molto un gap di rappresentatività sia all'interno del consiglio regionale sia adesso purtroppo a seguito del taglio dei parlamentari che io e noi abbiamo osteggiato e che però purtroppo si è determinato nei fatti e che andrà ad amplificare quella crisi di rappresentatività del nostro territorio ebbene io ho sempre fatto questo ragionamento un conto è presentarsi nei tavoli istituzionali dove si decidono le sorti di un territorio come singole realtà spezzettate un conto è presentarsi invece in maniera organica coesa e con un progetto che metta tutti insieme perché chiaramente il peso da un punto di vista anche di immagine ma anche da un punto di vista di rigadute sulle popolazioni sarebbe decisamente migliore e decisamente diverso questo è il senso intimo della nostra proposta che come dice giustamente Pierpaolo purtroppo non incontra molto l'interesse e il favore sì c'è stata qualche timida apertura nei confronti dell'iniziativa di un'industria ma in realtà poi alcuni sindaci dei comuni vicini si sono mostrati o troppo tiepidi oppure in alcuni casi anche degli strenui antagonisti oppositori rispetto a questo progetto preconizzando chissà quale fine del mondo per le specificità comunali l'abbiamo detto lo ribadiremo in tutte le tutte le situazioni in tutti i contesti laddove ci sarà data questa possibilità con la città intercomunale con il progetto di grande frosignone troviamo il modo più accattivante possibile noi vogliamo sostanzialmente creare un'area che sia un bacino di utenza che si possa porre all'avanguardia rispetto al centro Italia ma anche che non abbia nulla da invidiare rispetto a altre realtà ricordo che progetti in questo senso si stanno portando avanti in alcune realtà settentrionali del nostro paese ancora nessuno è arrivato diciamo allo stadio finale che è quello che proponiamo noi forse sarebbe il caso che per una volta frosinone anticipasse un po i tempi e magari si ponesse alla guida di progetti virtuosi e occupasse delle posizioni eh di alcune classifiche magari non solo come maglia nera rispetto ad alcuni fenomeni ma che indossi anche la maglia rosa che in questo caso sarebbe una maglia gialla azzurra eh per ricordare i colori eh anche della nostra città quindi io credo e chiudo veramente che l'unica strada per la quale si può passare per un rilancio della nostra città è quello di pensare in grande e renderci conto che va bene l'amministrazione è fondamentale l'ordinaria amministrazione la manutenzione del decoro urbano è fondamentale e forse ne manca anche troppa però se non leghiamo questo a un progetto politico di visione dello sviluppo di frosinone non riusciremo a invertire quel trend che purtroppo come diceva Pierpaolo negli ultimi quindici anni dieci quindici anni porta frosinone a non essere più attrattiva come un tempo grazie scusate se l'ho fatta troppo no e Vincenzo si è stato la parola e poi diamo la chiusura a Vincenzo va bene no anzitutto volevo eh dire a Vincenzo una piccola annotazione che eh giallo azzurro è il colore della provincia eh comune di Frosinone è rosso blu ci tengo bravo eh siccome eh ormai passa questo la squadra di calcio ha i colori eh giallo blu ma i colori del comune di Frosinone sono rosso blu per dire anche che quanto io sia frusinate che conosco Frosinone ma soprattutto mi appassionano le persone e penso di conoscere i cittadini frusinati più della città e voglio rivedere quegli occhi luminosi mi hai dato mi hai dato l'assist per dire che quando io feci la campagna elettorale ultima i manifesti avevano come sfondo il rosso e il blu e più di qualcuno mi disse ma perché il rosso e il blu mica stiamo in altri comuni chiesti no perché i colori storici di Frosinone sono il rosso e il blu quindi anche su questo non sono troppo d'accordo che fa sì ma mi lo ricordo il tuo manifesto me lo ricordo e tra l'altro io mi ricordo io purtroppo non sono stato mai eh rieletto poi però mi presentai anche con Michele Marini al Consiglio Comunale anche nel 2007 io mi ricordo eh che nel programma forse inserito proprio dai socialisti non mi ricordo però l'idea dell'area intercomunale già c'era e quindi poi devo dire che il Partito Socialista Gianfranco Schietro ma sei sempre eh diciamo espresso a favore di questa cosa quindi tu raccogli il testimone un po' del partito eh che eh l'ha sempre promossa l'idea della grande Frosinone e perché dico che eh noi dell'associazione Frosinone al centro abbiamo lanciato una sfida culturale perché eh la sfida culturale significa sfida politica se eh noi vogliamo dare forza a un cambiamento di mentalità bisogna cominciare a discutere a parlare a dialogare e anche a far notare alcuni aspetti che altrimenti non sarebbero mai a conoscenza dei cittadini se non c'è dibattito politico non c'è nemmeno la possibilità dei cittadini di accedere alla conoscenza e l'amministrazione deve dare la politica soprattutto deve dare eh gli strumenti ai cittadini per poter essere se stessi poter esprimere loro stessi l'idea dell'area intercomunale ad esempio parte da un presupposto fondamentale non l'idea la mentalità accentatrice che è un'altra cosa io reputo sia stato un errore dell'attuale amministrazione dell'attuale sindaco che è da tutti anche riconosciuto come un accentratore no l'idea dell'area intercomunale deve far superare questa mentalità retrograda accentratrice che a partire al secolo scorso e avere una visione quella che propone l'associazione Frosinone al centro policentrica ecco perché l'area intercomunale diventa una possibilità perché eh avendo una visione dove non c'è più una cosa che sta al centro e gli altri sono satelliti ma sono un diciamo una costellazione quindi una galassia che sta insieme eh perché diversi sono i centri e quindi come a Roma la città metropolitana di Roma no lavora a Roma viva a Roma eh per lavoro e quindi mi rendo conto no ci sono i municipi ma se no sarebbe impossibile gestire Roma soltanto dal Campidoglio no e questi municipi hanno dei piccoli sindaci eccetera che hanno una loro caratteristica per una loro eh giunta e tutto il resto allora questa visione policentrica a maggior ragione dovrebbe unire un'area quella del Frosinone e come diceva Vincenzo è interdipendente l'una dall'altra e siccome ripeto l'associazione Frosinone al centro ha l'idea il sogno di Frosinone capitale europea della cultura per poter raggiungere questo sogno il primo passaggio da raggiungere il primo obiettivo da portare a casa è proprio quella dell'area intercomunale perché Frosinone ma con tutti eh appunto i comuni della cintura quindi Veroli Torrice Ferentino Ceccano Alatri eh Supino io metterei pure Ananni Patrica insomma eh che ormai mi sembra assolutamente illogico fare i sovranisti del proprio comune proprio che dice no io sono di Supino Supino oppure sono di Torrice Torrice ormai stiamo insieme in un'unica realtà e se vogliamo affrontare le sfide del futuro questa realtà deve mettersi insieme è la legge del Rio la legge cinquanta sei del duemila e quattordici è un'occasione di sviluppo di crescita di di scambio di arricchimento per tutti e quindi eh spero che questo dibattito sulle primarie possa avviarsi anche se io ho deciso ormai andrò con una lista civica fuori dal schieramento di centro-sinistra perché non ci sono i presupposti ma almeno contribuire al dibattito affinché temi come questo così fondamentali siano posti all'ordine del giorno e conosciuti dai cittadini che in maniera tale che possano farsi un'idea e comprendere quello che eh l'area intercomunale rappresenta anche in virtù di una mutazione culturale questa apertura di mentalità da una visione accentatrice a policentrica. A Vincenzo in chiusura la parola. Sì gli stimoli sono stati molti e e ce ne ci sarebbero necessari altri altri minuti ma penso che sia giusto chiudere e ringraziando voi per la disponibilità e per Paolo in particolare per l'invito e anche per le molte cose dette sulle quali mi trovo d'accordo. Non starò a ripetere tutti i benefici della città intercomunale dirò solo che se Frosione vuole avere una chance veramente di tornare a eh rappresentare un centro di interesse da un punto di vista politico e anche da un punto di vista amministrativo l'unica strada è quella dell'aggregazione. L'aggregazione secondo le forme che ho cercato di dire che non vuole sacrificare nessuno ma che vuole valorizzare tutte le specificità dei singoli territori però dando un'identità e una cornice comune perché l'area delle Frosinate è un'area identificabile ben identificabile che lo ha detto l'ho spiegato anche per Paolo non si capisce per quale motivo bisogna continuare con questi campanilismi e questi derby che ormai affondano le radici in un passato che sicuramente ha prodotto aspetti positivi ma che ci lascia anche una serie di retaggi dai quali dobbiamo necessariamente liberarci soprattutto in termini di mentalità e di visione. Chiudo sulla vicenda invece di carattere più politico che riguarda le primarie per dire a Pierpaolo che ovviamente non servono le primarie per fare dibattito. Noi già stasera l'abbiamo fatto senza organizzare e partecipare ad elezioni primarie. Quello che serve a Frosinone è da qui ai prossimi 18 mesi o più sperando di no se la pandemia ci consentirà di votare ma io mi auguro insomma che da qui a 18 mesi si possa andare a scadenza naturale e votare c'è bisogno di veramente mettere al centro le idee e fare questa volta sì delle primarie delle idee per selezionare tutte quelle proposte che vadano al rilancio che puntino al rilancio della città. Questa è una città che non si può più permettere di guardare al passato non si può più permettere di dimenticare di essere capoluogo di provincia e il capoluogo di provincia proprio alla luce della riforma del Rio e sulla quale andrebbero dette mille cose ma non c'è tempo questa sera pone la città capoluogo di provincia al centro di tutto perché nello svuotamento dell'ente provincia sia in termini di competenze sia in termini di peso politico è chiaro a tutti che il peso politico maggiore lo interpreta e lo eredita il comune capoluogo. Se Frosinone capisce questo e diciamo la classe politica frosinata della quale facciamo parte tutti e insieme ai cittadini si capisce che c'è bisogno di uno scatto di mentalità per arrivare a costruire dei progetti di rilancio per Frosinone credo che si possa veramente aprire una pagina nuova. Ce lo dobbiamo augurare anche perché siamo frusinati doc anche io come Pierpaolo sono pendolari io la sera torno a Frosinone il giorno sto a Roma per ragioni di lavoro ma non abbiamo alcuna voglia di trasferirci da questa città che è il nostro cuore le nostre radici e che però deve essere e deve tornare una città attrattiva anche per le future generazioni quindi forza Frosinone sempre e forza Frosinone prima di tutto. Perfetto io qui allora questa puntata di creare il futuro Frosinone al centro prospettiva amministrativa duemilaventidue ringrazio Pierpaolo Segneri. Speriamo che Vincenzo sia tra i candidati alle primarie però. Con questo auguro ringrazio. Perché le persone contano le persone contano. Le persone contano ovviamente ringraziamo anche appunto Vincenzo Iacovisti vicepresidente vice segretario nazionale del partito socialista e ricordiamo che questi appuntamenti stanno ottenendo un certo successo. Grazie ancora di nuovo ritrovarci su Liberi TV e forza Frosinone come ormai ritualmente chiudiamo. Sempre forza. A presto a presto.